Di cose strane che tanti non sanno nel mondo di GTA ce ne sono tantissime Cose in cui è stato anche difficile comunque in dieci anni di gioco non essersi imbattuti Parliamo della bici, non so se lo sapete ma potete cadere da qualsiasi altezza a quanto pare Non morite in nessun modo cadendo con la bici Neanche se provate a buttarvi di testa, infatti si crea questo effetto molto particolare Guarda come cavolo finisce la situazione, guarda cosa succede E' allucinante che possa effettivamente non esser stata notata dalla maggior parte delle persone in tutti questi anni Questa cosa che comunque si è stata evidenziata veramente da pochi Anche perché comunque cadendo di testa tu puoi andare avanti a vagare Volendo se sei bravo per chilometri e chilometri e chilometri e non frega assolutamente niente a nessuno Ma ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di questa fantastica serie In cui andiamo a vedere le stronzatone di questo gioco Andiamo avanti con la prossima Sapete benissimo che potete far avvicinare i personaggi della storia tra di loro Ecco se vi avvicinate l'uno all'altro entrambi in elicottero Uno dei due fa così, si butta completamente a caso E in questo caso la cosa ironica è che Trevor è pure sopravvissuto Non so come perché ha fatto una caduta che avrebbe ucciso pure una mosca Ma è sopravvissuto Questo video è offerto da Yaha Una piattaforma che permette di creare esperienze multiplayer 3D interattive Il bello è che per cominciare non è necessario sapere nulla in fatto di programmazione, modellazione 3D e non è necessario avere altre competenze specifiche Basta utilizzare tutte le funzioni e gli assets disponibili su Yaha Studio e ce ne sono più di un milione per creare l'esperienza 3D dei vostri sogni Ma il divertimento non sta solo nella creazione È possibile infatti condividere la propria esperienza con gli amici in tempo reale Una delle funzioni che mi ha mandato più fuori di testa è quella che permette di condividere all'interno dell'esperienza virtuale i miei video con gli amici Si intendo proprio letteralmente come se fosse un cinema drive-in Per fare tutto ciò è semplicissimo Basta andare negli assets e trovare web screen tra i modelli Dopo averlo posizionato nel posto che più preferite Magari avendo anche creato una sorta di ambientazione che possa in qualche modo far intendere che questo sia un cinema Basta inserire il link di un video ed entrando in gioco ecco il risultato Ma se non fosse già abbastanza a cominciare fin da subito Trovate Yaha in live su Twitch molto spesso Oppure trovate le differite o altri tutorial sul loro canale YouTube In tutti questi video in diretta viene mostrato come utilizzare il programma al meglio Se volete iniziare fin da subito a creare i giochi o gli eventi virtuali dei vostri sogni Scansionate questo codice QR oppure cliccate sul link che trovate qui sotto Per quanto riguarda i personaggi della storia poi c'è un'altra cosa molto interessante Se voi state per schiantarvi con un aereo e cambiate personaggio Potete sopravvivere ma no Perché ciò che accade è questo Venite responati appena ritornate col personaggio che stava con l'aereo All'ospedale ma non all'ospedale vicino a dove il personaggio dovrebbe essere morto Come dovrebbe funzionare normalmente il gioco Vicino all'ospedale più vicino che potete trovare col personaggio in cui avete switchato Altro fatto singolare di cui parlare riguardo il cambio del personaggio Se voi state in volo con un veicolo Nella maggior parte dei casi se non toccate terra prima che si completi il cambio del personaggio Beh quando ritornate sul personaggio che era in volo Succede questo Vi rimettete a posto più o meno in volo dritto per dritto E riuscite anche in questo modo ad atterrare anche molto più facilmente È ironico che nessuno in dieci anni ci abbia mai pensato Perlomeno io non so se non mi ricordo non credo di averci pensato Insomma se tu vai vicino a un poliziotto con una macchina della polizia E si vede chiaramente è palese che tu non sia un poliziotto In realtà non gliene frega niente Non se ne accorgono va bene potresti essere in borghese Ma tu puoi metterti a fare il cazzo che ti pare Suonare il clacson a azionare la sirena Qualsiasi cosa non gliene frega assolutamente niente Ma non azzardarti mai ad avvicinarti di un centimetro in più A quel punto sei morto Su GTA Online nel competitive chiamiamolo così Questa cosa è abbastanza sfruttata In realtà però molti non sanno la legge fisica che ci sta dietro La regola non scritta Ecco la regola è questa Se voi piazzate un C4 dietro un muro Se riuscite a trovare una curva di perfettamente 90 gradi Dietro a questo muro Beh potete sopravvivere anche a pochi centimetri dall'esplosione Da cosa non siete immuni però ecco Non siete immuni dalle fiamme di una bombola di gas O comunque di carburante Ma non solo Non siete immuni dalle fiamme invisibili Generate dalla stessa bombola di gas Di carburante Che è difficile da spiegare Si crea perché voi la colpite con la pistola Probabilmente saprete che se vi mettete dietro al getto del motore di un aereo Venite sbalzati via Saprete questa cosa da GTA Online Ma succede anche offline Dovete però metterci un NPC dentro Perché a quanto pare se l'aereo è solo acceso Non succede assolutamente nulla Purtroppo è un problema questo Perché non succede con altri aerei Come i jet di linea Lo Shamal Il Luxor Altri aerei Ma io volevo appunto verificare questa cosa con laser Quindi ho spunato un NPC L'ho messo dentro al laser E gli ho fatto compiere un viaggio E ho scoperto una cosa incredibile Se c'è un NPC dentro L'aereo con l'NPC appunto Può decollare a qualsiasi velocità Anche a velocità assurdamente basse Guardate a che velocità decolla A 10 km orari E il bello è che ho provato anche quindi Con altri aerei Ho spunato l'Alconost Ho spunato un NPC Gli ho dato un percorso da fare Gli ho messo la velocità massima A 1 km orario Cosa ha fatto? È riuscito a decollare tranquillamente A 1 km orario Guarda Guarda Com'è riuscito a decollare È una roba incredibile Che in 10 anni In 10 anni Non avevo mai scoperto Ed è assurdamente stupida E geniale Allo stesso tempo Questa cosa È un test che ho ripetuto Svariate volte A qualsiasi velocità Un aereo Comandato da un NPC Riesce a decollare Ma senza mod Non stiamo parlando di mod È solo moddato il fatto di scriptarlo Ma lui di fatto Non ha nessuna mod Che modifichi l'aerodinamica dell'aereo Che gli dia qualche tipo di potere No Assolutamente niente L'abilità di Trevor Forse Trevor è uno dei personaggi Più apprezzati della storia Semplicemente per la sua abilità Che gli permette di sopravvivere A praticamente qualsiasi cosa Eccetto le cadute Ecco se voi piazzate appunto 5 C4 sotto i piedi Non gliene frega Niente Sopravvive quasi senza danni A qualsiasi esplosione Potete anche attivare l'abilità Un attimo dopo aver sparato Un razzo sotto i vostri piedi Se avete il tempismo giusto Sopravvivete Non so voi Ma a me sembra decisamente esagerato Ma torniamo ora a parlare dei C4 Hanno una caratteristica molto particolare Probabilmente impensabile E non molto realistica Possono essere detonati anche da Un'arma vabbè No 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 Non un'arma normale Non intendo un'arma proiettili No Da un'accetta Non solo però Aspettate Magari qualcuno di voi potrebbe pensare Eh ma l'accetta magari riesce Perché fa le scinti No Anche a mani nude A mani nude riesce a detonare un C4 Dandogli semplicemente un calcio Il telefono degli NPC È antiproiettile Se voi ci sparate contro Mentre lo stanno utilizzando Sì si spaventano un pochetto Ma Niente di più Non è successo nulla Il telefono funziona ancora Scappano tranquillamente In determinati casi Neanche scappano Ed è molto ironico Il fatto che Se voi sparate col fucile da cechino Questo succede in generale Però non dovete Ovviamente uccidere L'NPC A cui volete sparare Quindi magari colpite Che ne so Il caffè che c'ha in mano Per dire anche Quell'antiproiettile Ecco in realtà Metà degli NPC intorno Si spaventano L'altra metà Ignora completamente Devo ancora capire Comunque Ripetiamolo Dopo dieci anni Perché ragdollando Contro gli NPC seduti Questi Muoiono automaticamente Perché invece Ci siano Delle tizie Forzutissime Sono Delle statue Di pietra Perché nel momento In cui ci vai addosso In genere Succede con i personaggi Femminili Con quelli maschili Mi è successo Molto meno Non reagiscono Quasi per niente È come se Tu non avessi fatto nulla Potete atterrare Sopra l'atomic blimp E se vi schiantate Addosso con le palle Leggermente Farà un suono Abbastanza strano Particolare Per questo tipo Di velivolo Insomma Che dovrebbe appunto Essere un dirigibile No Non un rigido Quindi più o meno Però appunto Potete atterrarci sopra Ecco Arriviamo al punto Della questione Se voi vi allontanate Dal velivolo Con cui siete arrivati O se arrivate Magari col paracadute Potete teletrasportarvi All'interno E il bello è che Il tizio che stava pilotando Si butterà ovviamente Automaticamente Perché il posto è uno E in determinati casi Sparirà nel nulla Non so se lo sapevate Ma se voi colpite Una tannica di benzina Non esplode Ed è molto particolare Questa cosa Dato che GTA 5 È molto realistico Ma questo Attenzione Solo se è in mano A un NPC O un altro giocatore Perché nel momento In cui viene droppata Ed è a terra Allora si Li esplode Tra l'altro Proprio grazie a questo Ho riprovato l'estintore Di cui mi ero scortato Completamente L'esistenza Da tanto tempo E credo Che dovrebbe sortire Un effetto Leggermente migliore Va bene che anche Nel mondo reale Non è così semplice Spegnere un fuoco Ecco ma credo Credo a tutto Ci sia un limite Oh le palle di neve Quanti problemi hanno Voglio tornare a parlarne Perché va bene È passato il Natale Ma è ancora freddo Ecco Probabilmente lo saprete Potete rapinare Un negozio Con le palle di neve Il fatto è che In genere Se il negoziante Scopre che non è Temibile L'arma che avete Non ve li dà i soldi No no Ve li dà in sto caso Anche se ne avete Lanciata una Insomma Gli fa paura Il fatto che voi Lanciate palle di neve Ne abbiate ancora Ma oltre a questo Le palle di neve A quanto pare Spaventano anche Altri commercianti Come per esempio Il cazzutissimo Tizio dell'ammunition Questo qui vi spara In qualsiasi occasione Se voi provate A entrare con una pistola Ma con una palla di neve Assolutamente no Si caga in mano E scappa via Ma scappa Veramente Inizia a piottare Per chilometri e chilometri E succede anche Un'altra cosa Con le palle di neve Se voi provate A entrare nello strip club Ovviamente vi ignoreranno Se avete una palla di neve E ve la metterete In tasca Nel momento In cui varcate La soglia Dell'ingresso La soglia di rilevazione Di essere dentro Allo strip club L'ho spiegato di merda Ma ci siamo capiti A meno che voi Non iniziate a lanciarla Prima di entrare A quel punto Si incazzeranno A bestia tutti Oh e anche In questo episodio Tra poco Arriviamo al complotto Dell'episodio Ma prima Un'altra logica Della caduta libera Chiamiamola così Se voi vi buttate In qualche modo Non so come Ma se voi ci arrivate A buttarvi da molto in alto Col trattore Il rusty tractor In inglese In italiano Non mi viene Il nome Beh in realtà Potete sopravvivere A qualsiasi caduta In qualsiasi modo Se il trattore Non esplode Potete sopravvivere Di piatto Potete sopravvivere Buttandovi di testa In qualsiasi modo Come ho detto E questo mi ricorda molto Ciò di cui abbiamo parlato prima Ossia della bici Ma arriviamo Al complotto di oggi Che riguarda Sempre Casa di Michael Sappiamo bene Calavetrata Che sul soffitto Non si vede da fuori Insomma è ok Bene C'è qualcos'altro Di problematico Oltre al bagno Fantasma Tutte le stanze Fantasma Della casa C'è una finestra Vicino alla cucina Che di fatto È solo Funzionante da una parte Perché da dentro Si vede l'esterno Ma da fuori Non si vede l'interno E perdonatemi Ma questa finestra Non mi sembra Ne oscurata Ne così coperta Non mi sembra esserci Nulla che impedisca Di vedere Effettivamente All'interno Dall'esterno Mi prendo un attimo A conclusione Per dirvi che è uscita La mia personale guida Per iniziare a guadagnare In due soli episodi Da zero A decine Di milioni di dollari Appunto In pochissimo tempo La trovate qui sotto Potete abbonarvi Per vederla Io vi ringrazio Per avermi seguito finora E noi ci rivediamo Alla prossima